C'è qualche peculiarità nel modello multi manager rispetto al tema della sostenibilità? Anche qui il discorso della sostenibilità è assolutamente caldo sui mercati, se guardiamo all'evoluzione dell'offerta, moltissimi gestori stanno modificando, trasformando l'offerta verso prodotti con la denominazione e classificazione cosiddetti articolo 8 e articolo 9, proprio legati ai temi della sostenibilità. Nei prossimi decenni si pensa che si investiranno qualcosa come 2,5-3 triliardi di dollari in questo ambito, quindi non c'è dubbio che il posto dove stare e dove consigliare l'investimento, però nello stesso tempo bisogna stare attenti ai dischi che sono connessi a questi tipi di investimenti, vale a dire non dobbiamo dimenticare che l'affollamento presenti su questi mercati, la ricerca di soluzioni, una trasformazione che si richiede sempre più velocemente può portare al cosiddetto greenwashing, con la possibilità di investire in temi dove in realtà non c'è un contenuto di sostenibilità accettabile. Da questo punto di vista è necessaria una selezione accurata e proprio in riferimento al modello multi manager noi possiamo gestire e selezionare bene quelli che sono i gestori che hanno nel proprio DNA questa cultura di sostenibilità, indifferentemente dal fatto che oggi vengono classificati come articolo 8 e articolo 9, i team di gestione sono quei team che già da prima seguivano se vogliamo un modello di sostenibilità negli investimenti. Il modello multi manager ci aiuta perché noi abbiamo la possibilità di andare a fare cherry picking, andare a scegliere i migliori gestori che hanno storicamente quel DNA verso il mondo dell'ISG.